Buongiorno e benvenuti alla segna stampa di oggi, il 28 luglio. Quali sono i temi fondamentali della giornata? Ma intanto ovviamente il tema fondamentale della giornata è che escono ancora questa battaglia sui cantieri di San Nazare che come sapete, vediamo come sono intanto i dati, il prologo, secondo un accordo che sarebbe stato stipulato ad aprile del 2017 tra Fincantieri e i proprietari e anche il governo francese, cioè all'epoca Hollanda, l'Italia avrebbe dovuto conquistare il 66% di questi cantieri francesi che fanno anche navi militari, ma non solo, e sono cantieri che erano di proprietà dei coreani al 66% sudcoreani. I sudcoreani falliscono, l'Italia partecipa alla gara per comprarsi questi cantieri, vince la gara, va in Francia e con i francesi si mette d'accordo per averne il 66% che era esattamente la quota che avevano i sudcoreani. Macron ne fa una grande questione di campagna elettorale e poi rispetta la sua campagna elettorale sulla questione piccola dei cantieri, ma invece l'ha, come dice mi sembra anche Grameddini, ieri nella sua rubrica, o anche stamattina nella sua rubrica, la smentisce su tutto il resto che è l'europeismo, l'apertura dei mercati, insomma preferisce i sudcoreani e gli italiani come azionisti dei cantieri storici francesi. Ma di quanto e di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, questo fa specie che i giornali non lo mettono in grande evidenza, di un affare da 80 milioni di euro, cioè niente nel panorama e nella dimensione politica e geopolitica dei rapporti tra Italia e Francia. Oggi tutti i giornali si esercitano, molto buono il pezzo del giornale oggi su il peso degli affari italiani in Francia, ma per farvi un esempio, la fusione tra i produttori di lenti francesi e luxottica, che è la conquista di luxottica da parte dei francesi per il semplice motivo che del vecchio non aveva un solo erede, ne aveva troppi e quindi sostanzialmente vende i francesi invece che fare altro. Quella vale 50 miliardi di euro, soltanto quella fusione. Telecom che è diventata dei francesi, oggi sui giornali spiegano nei dettagli perché è diventata dei francesi il contrario di Telecom, perché l'amministratore de Puy fu l'uomo di Vivondi, è di fatto il capo azienda e l'uomo forte sarà un israeliano che per un anno non potrà lavorare direttamente perché c'è un contratto di non concorrenza, essendo uscito da una società brasiliana che si occupa di TLC e Recchi si occuperà soltanto di SPARCOL, cioè la parte strategica italiana che per motivi di sicurezza deve essere affidata in Italia. Insomma, per dirvi, la sostanza è che si tratta di pochissimo rispetto al grande panorama dei rapporti Italia-Francia. Detto questo, lo schiaffo è fortissimo perché lo schiaffo è uno schiaffo intanto che è inatteso e poi è uno schiaffetto di quelli... è quello sgambetto che non ti aspetti fatto all'ultimo secondo ed è il motivo per il quale ovviamente i giornali italiani si affacciano su questa vicenda, cosa di cui parlerò anch'io domani sulla zuppa di porro che non è quella televisiva fatta su Facebook ma quella fatta sul giornale. Quindi se avete voglia domani ve la leggete la segna stampa Rudy Pomeridiana perché forse dietro si vede sono... aspettate che tolgo questo cavo qua sono in... non sono in Italia, sono in New York e quindi ci sono un po' di ore di fuso orario. L'altra questione fondamentale riguarda ai francesi è l'atteggiamento europeo, cioè i francesi in realtà ci hanno talmente sconfitto che la nazionalizzazione di un cantiere, nazionalizzazione che nasce dal fatto che lo Stato francese che aveva il 33% di questi cantieri aveva il diritto di prelazione se fossero stati venduti dai coreani cosa che è avvenuta perché i coreani l'hanno venduta fallendo agli italiani diciamo che c'è un passaggio per il tribunale quindi ha l'esercizio del diritto di prelazione la Francia che esercita, ma esercitandolo vuol dire che il 100% dei cantieri diventa dello Stato francese 80 milioni di euro di nazionalizzazione non è granché ma in un mondo in cui le banche non si possono aiutare i francesi si comprano i loro cantieri al 100% forse qualcuno poteva pensare a una moral suasion europea a un comunicato europeo, un'attività europea gli stessi giornali italiani oggi dicono in un colonnino mi sembra il Corriere della Sera perché l'Europa non interviene sono d'accordo con voi ma questa direzione giornale della concorrenza tanta temuta dalle banche perché in questo caso moral suasion non l'ha fatta? perché in Europa i francesi hanno un network di rapporti probabilmente anche insalto con i tedeschi italiani per cui sono intoccabili è lì che forse dovremo un pochino agire andiamo sulle altre questioni anche se questo ovviamente è molto affascinante tutti quanti i giornali ne parlano altra questione di giornata che a me ha molto appassionato ve ne avevo parlato anche ieri è la storia dell'Atac ieri il direttore generale dell'Atac che si chiama Bruno Rota ha detto che l'Atac in realtà c'ha molti dipendenti che non lavorano che non si riesce a farli lavorare c'è un tasso di assenteismo del 12% e ha anche straparlato secondo me facendo benissimo detto male straparlato ha preso per i fondelli questi sindacati che non rappresentano nessuno e che vanno in televisione a parlare di temi fondamentali per l'Atac di cui conoscono poco cosa è successo? c'è un secondo passaggio lo trovate su Corriere della Sera lo trovate su tutti quanti i giornali italiani il Corriere della Sera ieri ha intervistato Bruno Rota direttore generale dell'Atac e il passaggio è che il presidente della commissione mobilità della Campidoglio cioè questo Stefano Enrico Stefano del Movimento 5 Stelle ha detto ma insomma invece di fare interviste ai giornali in questi tre mesi Rota poteva licenziare i dirigenti che hanno creato tutto il casino per cui lui stesso dice che non riesce a pagare gli stipendi allora Rota gli risponde poi vedrete però la risposta che mi sembra che forse politicamente si sarebbe potuta dare ma è lo stesso Enrico Stefano che invece di venire qua a consigliarmi di licenziare i dirigenti veniva qua consigliandomi a promuovere dei giovani dipendenti di Atac così come fanno tutti cioè raccomandazioni ed è lo stesso Stefano da presidente della commissione mobilità del Compidoglio che mi aveva raccomandato una società per il ticketing cioè per mettere i biglietti dell'Atac insomma lo ha sputtanato in maniera totale a questo punto ovviamente le cose sono due o Rota se ne va o il presidente della commissione mobilità del Compidoglio deve dire qualche cosa sul fatto che lui ha fatto il raccomandatore di società e di giovani all'interno dell'Atac un'altra questione perché più andiamo avanti e più scopriamo cose mi sembra su Corriere della Sera di Oggi che è straordinaria cosa succede? i 5.800 autisti dell'Atac non timbrano il cartellino e quindi quando Rota ieri diceva che alcuni di loro che dicono di avere dei turni massacranti in realtà lavorano tre ore probabilmente è anche vero è comunque non controllabile c'è da dire un fatto che ovviamente un autista dell'Atac se deve prendere la sua metropolitana o il suo autobus lo deve prendere in una zona X ovviamente deve andare in quella zona X quindi è evidente che forse c'è una difficoltà logistica nel timbrare i cartellini ma io sono sicuro che le altre società municipalizzate del resto del mondo un sistema per far timbrare i cartellini visto che si deve andare a prendere il lavoro in posizioni diverse rispetto a un centro non c'è un ufficio centrale perché gli impiegati ce l'hanno ma evidentemente gli autisti non ce l'hanno ci sarà eppure in Atac questo non si fa un miliardo e tre di debiti e incapacità da parte di Rota di pagare i prossimi stipendi tant'è che oggi si scopre che pagherà i prossimi stipendi attraverso l'anticipo del contratto che ho fatto col comune l'altra cosa che politicamente mi verrebbe da rispondere a Rota non a Rota scusatevi ma al consigliere Grillino se hanno ragione i consiglieri Grillini a dire che non possono in pochi mesi la giunta a raggi aver risolto il problema di dieci anni di mala gestione di Roma come pretende il consigliere Grillino che il direttore generale dell'Atac arrivato là tre mesi fa cioè molto dopo di quanto sia arrivata la raggi in Campidoglio possa il detto direttore generale Rota risolvere i problemi dell'Atac che nascono da dieci, quindici anni di mala gestione Rota, dice Tommaso Boldrini, si è appena dimesso grazie a Tommaso che mi manda in diretta le informazioni era evidente che Rota si sarebbe dimesso dalla gestione dell'Atac già dall'intervista di ieri del Corriere della Sera perché altrimenti non faceva un'intervista di quel tipo e fa precipitare nella fallimento che è l'unica soluzione mi sembra che ci possa essere una società municipalizzata come quella di Roma che perde miliardi e soprattutto è il biglietto da visita più schifoso per una città come quella di Roma va bene, vi do un saluto oggi in ritardo e come vi posso dire in hurry, in fretta perché ho tante cose da fare a New York prenderò una metropolitana sperando che ci sia un autista che abbia timbrato il cartellino ciao